Non ti si può guardare Non dire così perché Prendiamola seriamente Seriamente Capitano Cotte, scusi se mi sono permessa di fare un giudizio sul suo look meraviglioso Sto perfezionando il mantello, la maschera Nemmeno 2 euro costa quella mascherina Dai per piacere L'ha fatta mia suocera maestra d'asilo Ah l'ha fatta quindi c'è Stoffa Buona E' pratica del taglio Voi vi siete iscritti a Città dei Bimbi I primi siamo stati noi L'Axe Bimbo ormai nostro non è più un tanto bimbo Però noi ci teniamo ad iscriverci alla Città dei Bimbi Perché voglio dire è un servizio utile a quanto pare Mi sono resa conto che qua ci stanno un sacco di cose Che si metteranno in moto con la Città dei Bimbi In moto e si metteranno a posto soprattutto Soprattutto a posto perché i bimbi hanno diritto di avere le cose a posto Sono forse i cittadini più importanti E' così? Poi si dice che più si invecchia più si diventa bimbi E beh fra un po' diventeremo anche noi Avremo diritto anche noi alla nostra cittadina dei bimbi vecchi Capitano Conte veramente aggrappati Mi raccomando allora Dica No e voglio dire nel senso fatti rintracciare facilmente Perché noi appoggiati a te stiamo Noi siamo su cittadeibimbi.it Quindi è facile Non ci far fare la figura di quelli che non lo sanno Se ci siamo iscritti scusa Lo sappiamo Iscrivetevi Iscrivetevi Guarda Dite voi iscrivetevi 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 alla Città dei Bimbi Perché i bimbi sono i cittadini più importanti Insieme ai bimbi anziani E' vero? Allora adesso diamo un saluto Alla cittadeibimbi.it Diamo un saluto ad Antonio Loconte Diamo un saluto a quello là Che sta facendo le ripresche È un nostro amico Che voleva essere salutato per qui E un saluto a tutti i bimbi ovviamente Principalmente Ciao In bocca al lupo a tutti